La pandemia ha avuto un profondo impatto sulle comunità ebraiche in Europa, dando nuova linfa all'antisemitismo. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea Diritti Fondamentali. Una notizia che arriva proprio nei giorni in cui la Polizia di Stato viene premiata dall'European Jewish Association con il King David Award. Tra le motivazioni c'è l'impegno nella tutela della comunità ebraica italiana e nella prevenzione del terrorismo. Il riconoscimento è stato consegnato ieri a Cracovia al capo della Polizia Lamberto Giannini.